Allora da dove dobbiamo iniziare? Ho capito che ora è però capirai bene eri in macchina con me quando questo ragazzo più o meno coetaneo di giovanni qualche anno in meno di giovanni ci ha chiamato per darci una notizia che ci ha sotto un certo aspetto rincuorato sotto l'altro fatto preoccupare perché vuol dire una responsabilizzazione di giovanni rispetto a questa cosa a questo al ragazzo ci credo ragazzo ragazzo ci credo tu dici tu metti in dubbio la responsabilità non lo sappiamo il problema è che non si finisce mai di conoscere abbastanza qualcuno ve lo direi a me sulle vedi per esempio luigi che ha fatto il video con la birra da solo sotto l'obrellone questo è un'olta che va lavata col sangue si ricorda? no va lavata con la birra ha ragione vedi per esempio questo atteggiamento l'occhiale da solo la sigaretta è un atteggiamento che non va bene ma per lui è una cosa normale allora però torniamo alla proposta che ci è stata fatta questo ragazzo ha proposto dal momento dal giorno in cui giovanni viene dimesso un'accoglienza quindi un tetto nel centro di Bari pensavo l'accoglienza fuori no l'accoglienza no proprio un tetto bagno cucina camera da letto è un'accoglienza è una casa nel cuore di Bari non è la casa di quinto potere perché lo abbiamo detto e non succede non succede piuttosto attende da fuori ma giovanni non è c'è questa proposta di quest'uomo questo ragazzo che evidentemente spinto dal fatto che più o meno coetaneo che lui ha la possibilità che giovanni uscirà a breve perché tu confermi che uscirai a breve così dicono ma lo vuole aiutare in questa maniera anche avendo sentito della proposta di lavoro di casa massima siccome Bari e casa massima sono ben collegate sarebbe anche questa una possibilità a me non piace come dicevano i 3-3 a noi para proprio una strunzata però è chiaro che quando esce Giovanni perché lo dico a chi fa quei commenti un po' sdreus Giovanni smettila fa quei commenti un po' sdreus a volte ha ragione non sempre ha tolto e tanto che deve fare così colà e dove deve andare Giovanni quando viene dimesso per strada deve andare Giovanni a casa di Loconte nel caso colà tenda fuori da casa di Tino allora in estrema razio c'è sempre casa di Tino l'abbiamo già detto no non sono dalla Lazio non dalla Juventus è razio non Lazio c'è sempre casa di Tino però avere la possibilità di non dormire per strada è un fatto importante sempre in attesa degli amici di Vercelli vuoi dire una cosa agli amici di Vercelli intanto? sì che le aspetto con ansia mercoledì mercoledì 12 dovrebbero arrivare che dovrebbero venire tu dici che arrivano? e c'è l'ira maggio può darsi no perché oro, incenso e mirra le aspetta con grande brava ghiacciata da 66 le aspetta con molta con un pezzo di focaccia, un pazzerotto vuoi metterla a capo a posto? vuoi metterla a testa a posto? la perona non è che va bevuta da sola ma sempre in compagnia vabbè ma se ti porta la focaccia di Pazzinotti di Vercelli? no vabbè la prendeste da Bari no tra l'altro ha buone conoscenze a Bari quindi ti porta quella di Bari brava male e male andiamo qua al Bari del CUP che lo stesso è buono solo che la birra deve portare lui perché no o andiamo fuori e andiamo a prendere riesci a dire qualcosa di sensato e di attivente al cazzo che ti sta capitando e che probabilmente ti succederà tra qualche giorno quindi alle dimissioni qualche ora non un giorno mi raccomando domenica chiama di nuovo dica che sei in dimissione alle 8 di sera di domenica no lo faccio sabato vabbè l'unica cosa che mi consola è che noi abbiamo meno pensieri rispetto al fatto che ci sono delle alternative noi non intendo tu dico io plurale maiestatis mai e state questo è il problema questo è il problema che mai e state mai e state non è arrivato ancora l'estate ti aspettando che esco io per arrivare l'estate che cosa vuoi dire? nude di qualcosa io ma a che c'entro io? a me dà tanto che da accusatore principale io sei diventato accomplice a me dà questa cosa qua sento complicità nell'aria resto è gelo è invidioso no no guarda ti ho detto che casa sua è aperta di la verità loco che tu sei invidioso che è Tino da avere il preferito di Leo lascia Leo è finita ok ora sta prendendo complicità con me e tu sei geloso perché tu eri prima il preferito della situazione e ora sei diventato il secondario Tino è diventato il primario direttore scusi non cade non volevo schiacciare i piedi tanto lei resta sempre il preferito di chi di Gioan perché c'è l'argento ci chiamo a me Gioan l'argento non la potete avere appunto tu sei il preferito per l'argento Tino è il preferito per l'altro argento per l'altro tipo di argento va bene sai cosa ci ha detto il ragazzo come prime due cose da fare per poter avere questa possibilità uno non fare coglionate nel senso non portare sopra qualunque cosa due non far salire nessuno sopra ma infatti nelle case dove sono stato non è mai entrato nessuno erano già dentro bravo mi hai fatti prima entrare poi salivi tu quindi loro già c'erano dentro non hai fatto tu salire le persone giustamente dipende sempre dai punti di vista è ovvio è ovvio è ovvio è ovvio tra virgolette io ero l'abusivo tu eri l'abusivo e loro erano già dentro esci pazzo esci loro entravano già con il grosso quantitativo sì di felicità di felicità in modo che come arrivavo io portavo l'altra quantità no nel senso che noi abbiamo dovuto ovviamente promettere a questo ragazzo che ci saremmo fatti garanti del comportamento di Giovanni a parte tutto se l'occasione l'avrei lo avrò non me la cazzo stavolta poi sei sicuro allora vedi che è ancora l'accusatore bravo Tino il grillo il grillo parlando del grillo parlato l'ha detta proprio l'ha sentita l'ha sentita anche perché ho dovuto promettere che nel caso in cui ci fosse una qualunque virgola fuori luogo a calci in culo non lo prende lui ma lo prendo direttamente io se vuoi un piede te lo posso anche dare io lo so lo so su questo lo so che sei generoso comunque siamo arrivati al momento della tua vita in cui devi veramente pensare a ciò che dovrà essere dopo e a farlo anche qualora si rimanga con il culo per terra perché come ti è capitato già in passato di avere qualcuno che ti ha promesso qualcosa e poi ti ha lasciato come la zitta di Cellie ma io non mi sono di Cellie non me ne frega niente è per fare l'esempio ovvero la donna lasciata sull'altare al momento del matrimonio bisogna avere sempre il piano anche zitta per non stare poi nella merda ma dalla dalla alla zitta che deve venire anche da te non soltanto da noi questo deve essere tutte le altre lette dell'alfabeto cioè fino a un fa eh no bisogna trovare la zitta è l'ultima per dire che evidentemente se c'è la zitta ci sono anche quelle prima questo è il senso no pensavo che le avevi perse strada faccia no 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 le devi trovare come dura l'avventura va bene l'ha finita tutto a posto aspetta sotto al cielo sotto al cielo stiamo tutti non si sa vedi sta il dottore dov'è? si è affacciato il dottore non ha visto sta rientrando l'avremo salutato abbondantemente ecco ci saluta il dottore ci saluta il dottore ti ha riconosciuto guarda Giovanni con chi d'altro con chi d'altro con quegli altri vabbè ragazzi diteci la vostra io gliel'appoggiamo diteci la vostra io no lo vedo meno spiritoso però eh non lo so ho l'impressione che sia meno spiritoso se vuoi te lo appoggio eh non lo voglio essere appoggiato da te ricordati tu fai la tua vita io faccio la mia vita ma io non ti appoggio il mio ho capito ti appoggio il cetriolo si sempre qua ora faccio l'altro ora è stato colpito nel segno Tino e sta facendo lo spiritoso senza motivo ma finora non ha fatto granché lo spiritoso forse stiamo incominciando ad entrare nel tema eh attinente alla traccia non fuori traccia guarda che l'unico che si può prendere il cetriolo in questa storia sei tu ricordatelo sempre ma già le ho presi a tanti ho capito ma arriverà il momento nella vita in cui non prendiamo più cetrioli arriverà il momento e chi decide e chi decide di non prendere i cetrioli ognuno lo decide per se stessi a prescindere gli piace il fatto che mi piace è un altro cosa che me riprendo è in dubbio che mi piace è un altro discorso lascia il dirlo di da me che non mi piace me li prendo ma non mi piace però tu che vuoi fare vuoi andare sulla falsariga vuoi che ti piace lo vuoi prendere no 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 ah beh allora non voglio diventare questa metafora di vita è una metafora che veramente ci nobilita eh beh devo dire ma che si acchi una cosa veramente giusta qui a pigliarci non voglio diventare lo fonte no guarda due ore e non riesci più ma no non vuoi lo so lo so lo so per ora e solo per ora diteci anche la vostra una stanzetta non posso parlare col professore no ma il prof l'ha detto fatti il corso da osse e vintene qua eh dove è che qua e se fosse questa la soluzione ma direi tu studiamola scriveteci scriveteci sotto nei commenti certo che vede giù anche felossi eh tino quattos tino per piacere un po' di serietà anche tu tino anche tu dai dai спасибо ciao 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 Grazie per la visione!